Io mi sono spesso sentita la strana per certe cose, per altre assolutamente no. Per cui io voglio che ti chiedi, ma perché, adesso al di là della maternità, perché quella persona è felice facendo quella cosa e io non riesco a provare nessuna emozione? E perché io mi emoziono semmai trovando un'impronta di una scarpa con una fogliolina e dico fermi tutti e mi metto lì e l'altra persona dice ma che stai facendo?